Ci sono delle cose che mi hanno fatto un gran piacere quando abbiamo caricato tre Antonov che andavano nel Brunei per inviare delle attrazioni che andavano sul Tano del Brunei. Poi c'è stata la gara d'appalto che abbiamo vinto a New York, battendo aziende americane da altre parti del mondo e quindi riuscire a lavorare con la Municipalità di New York a secondare tutte le loro esigenze. Andiamo poi all'opposto, siamo riusciti a fare dei parchi di divertimento nella Corea del Nord quindi diciamo che la flessibilità italiana e la capacità di dialogare con i super pragmatici americani e vi immaginate come si deve lavorare in Corea del Nord dove deve avere la massima flessibilità perché certo non hanno mica tutto quanto disponibile.